Giovedì 28 novembre, buongiorno, ben trovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Donato Mignogna. Torniamo a parlare della giornata internazionale contro la violenza sulle donne perché tra le tante iniziative promosse ci sono quelle del Centro Antiviolenza Bay Free di Campobasso a sostegno di quante sono vittime di maltrattamenti e violenze e che fuggono da mariti o compagni violenti. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Il Centro Antiviolenza Bay Free di Campobasso in prima linea 365 giorni all'anno a sostegno e in difesa delle donne vittime di violenze e maltrattamenti. La sede di Viale del Castello è diventata punto di riferimento per accogliere quante fuggono da mariti o compagni violenti, spesso accompagnati da figli minorenni e che non sanno a chi rivolgersi. Qui trovano chi possa occuparsi di loro. Dal 2016 è una realtà ormai integrata nel tessuto molisano, è integrata nella rete dei soggetti interistituzionali, delle varie agenzie che si occupano di contrastare la violenza di genere. Qual è la situazione qui in Molise? È in linea con quelli che sono i dati nazionali. Noi dal 2016 ad oggi abbiamo potuto accogliere su tutto il territorio molisano circa 150 donne e una cinquantina di minori, quindi figli di donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza. Poi di queste donne c'è stato un determinato numero che ha avuto accesso alla casa rifugio, quindi chiedendo proprio ospitalità, residenza e dipende poi dai vari tipi di percorsi che hanno voluto attivare. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è svolto un incontro per presentare un progetto che ha una forte valenza sociale perché consente alle donne maltrattate di poter guardare con ottimismo al futuro dopo tanta sofferenza. In un progetto di agricoltura sociale le donne hanno seguito un corso di formazione, hanno seguito tutta la filiera agricola che ha portato dalla cura degli oliveti che erano in uno stato di semiabbandono o a rischio di abbandono e hanno così poi, insomma, si sono prese cura di questi alberi dalla potatura fino alla raccolta delle olive e conseguentemente hanno poi prodotto un olio extravergine che tra l'altro abbiamo fatto analizzare e sembra essere dotato di caratteristiche nutraceutiche molto interessanti. Appassionate, anche il titolo dell'olio che hanno voluto dare a quest'olio, Evo, appunto parla di un progetto, Aspem, questo è il titolo, la sigla del progetto e hanno aggiunto un trattino e poi un ulteriore sottotitolo all'olio, la terra delle donne, questo a significare che oggi sono donne sicuramente si sentono capaci, più capaci di abitare la loro terra. Cambiamo argomento, domani in programma il quarto sciopero mondiale per il clima. A Termoli le associazioni si sono incontrate per organizzare nuove iniziative e sensibilizzare le istituzioni a muoversi contro il cambiamento climatico. In Molise la situazione è al limite. Il servizio di Emanuela Iorio. Ondate di caldo, alluvioni e uragani provocano vittime e devastano intere comunità in tutto il mondo. Il cambiamento climatico è già una realtà che sta causando lo sconvolgimento degli ecosistemi e della biodiversità che sostengono la sopravvivenza della specie umana. Se continueremo a bruciare combustibili fossili, a distruggere le foreste, a produrre e consumare cibo in modo insostenibile, distruggeremo il nostro futuro. Non ci sono ancora azioni incisive per invertire la rotta. È necessario dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030. Secondo Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, non agire sarebbe un suicidio. Per venerdì 29 novembre in programma il quarto sciopero mondiale per il clima e a Termoli c'è stata un'assemblea pubblica per fare il punto sulle iniziative da intraprendere, per sollecitare le istituzioni e i governi a muoversi in fretta. Sciopereremo al fianco degli studenti molisani. A Termoli è previsto un corteo con partenza da Piazza Donatori di Sangue alle ore 9. Lo sciopero, così come l'assemblea di questo pomeriggio, si inseriscono all'interno di un percorso che abbiamo iniziato da qualche tempo con gli studenti, con la speranza di costruire un fronte comune, visto che nella nostra regione c'è assoluta esigenza di fare rete. Diversi gli studenti che hanno partecipato all'incontro insieme alle associazioni discoli del Sinarca, Trivelle Zero e Fridays for Future. Non solo governi e istituzioni, ma il cambiamento passa anche dal singolo cittadino, che con le sue condotte virtuose in tema ambientale può contribuire a salvare la terra. Non chiamatelo maltempo e emergenza climatica, ha affermato Chiara Camillo, in riferimento ai fenomeni meteorologici sempre più violenti che stanno colpendo anche l'Italia. E la situazione in Molise è pure al limite. Abbiamo 136 comuni a rischio idrogeologico, cioè il 100% dei comuni sono a rischio frane, siccità e allagamenti. I cambiamenti climatici agiscono fortemente sul rischio idrogeologico, creando degli smottamenti del terreno e anche degli slittamenti delle strade, creando comunque tanti disagi alla popolazione. Per esempio ci sono 90 comuni in Molise che soffrono la siccità in estate e il cambiamento climatico e l'inalzamento delle temperature ha creato questo problema, perché invece già 80 anni fa la nostra regione era ricchissima di acqua e non aveva assolutamente questi problemi. Adesso parliamo di viabilità perché l'Amec si è aggiudicato il contratto con l'ANAS, del primo dei tre lotti per l'esecuzione di interventi di manutenzione su alcuni viadotti situati lungo le strade statali molisane. Nel dettaglio il primo lotto riguarda il viadotto Molise 1 sulla Fondovalle del Bifernio, nel territorio di Guardiafiera e Larino, in provincia di Campobasso, per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Gli interventi manutentivi riguarderanno principalmente gli elementi strutturali del viadotto, permettendo così l'inalzamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell'arteria stradale. Bene, con questa notizia ci fermiamo, almeno per quanto riguarda la nostra informazione. Adesso uno sguardo ai giornali. C'è la cronaca sul giornaledelmolise.it, inseguimento e sparatoria, rapinatore ferito. Dunque scene da vero e proprio film d'azione, con inseguimento abbiamo visto uno sparatoria, un rapinatore ferito trasportato in ospedale a Lisernia dai militari delle fiamme gialle. Ancora cronaca, tenta di violentare un'amica di famiglia, quarantenne arrestato dai carabinieri. Siamo ora a Campobasso, nuovo ritrovamento in carcere, otto cellulari e un pacchetto di hashish. In alto invece leggiamo la questione di Sernia, l'attrice molisana Daniela Terreri, testimoniala della giornata per dire no alla violenza contro le donne. In basso ci sono le varie sezioni, editoriali idee e opinioni, le notizie dalla regione e dall'Italia. Ci spostiamo su primo piano, l'apertura è sul giudizio di parifica della Corte dei Conti. Dunque pure la Corte dei Conti certifica che la sanità è fuori controllo. Ieri il giudizio di parifica, i numeri del 2019 sono allarmanti, contestata anche la mancata approvazione del bilancio consolidato. Toma accusa i commissari e dice è loro la gestione, noi ci limitiamo a trasferire i fondi. Alla regione dunque rilievi su assunzioni, società partecipate e debiti saldati in ritardo. Disavanzo di circa 500 milioni. A centropagina, preso dopo inseguimento e sparatoria, il 52enne è piantonato in ospedale. Numerosi precedenti a carico del malvivente di Aprilia, si parla della sparatoria con i finanzieri. Attesa oggi la convalida dell'arresto, apprezzamento del sindaco di Montaquila per l'operato delle forze dell'ordine. Gli altri richiami, approfondimento sul terremoto in Albania, i volontari molisani di misericordia e protezione civile arrivati in Albania. E mentre per altri richiami siamo su quelli di spalla, Boiano, ucciso da una lastra di marmo, i familiari di Michele Calabrese vogliono la verità e chiedono dunque verità. A Cantalupo adesso ha reso un inferno la vita dei migranti, 61enne denunciato per molestie. Il primo piano parla anche di un'opera, di un libro presentato, sulla storia delle fiamme gialle, iniziativa ieri a Campobasso. Nella rubrica Il punto un articolo a firma di Vincenzo Musacchio, la paura del diverso. Andiamo a vedere le notizie sotto la testata. Siamo a Campobasso, strade Colabrodo, solo interventi tampone. La svolta promessa dai grillini non arriva. A Termoli, la doppio ferroviario, la giunta Roberti, non vuole la delocalizzazione della stazione. Abbiamo visto, si parla della Bifernina, ha stipulato il contratto per la manutenzione del viadotto che attraversa il Liscione. Uno sguardo adesso sul mondo dello sport, calcio di Serie D. Lupi, Cudini, pensa a una chance per Andrea Zammarchi. In Coppa Italia, Real, Guglionesi e Treppini, le ultime due finaliste. Infine, la pallacanestro, l'avversario della Magnolia, da Forfè. Di nuovo sul web, con il quotidiano telematico Futuro Molise, in evidenza proposta di legge sulla tutela dell'attività di panificazione artigianale. Scarabeo, la conferenza delle autonomie locali, dice, si esprime positivamente sul testo legislativo che ora torna in seconda commissione. Un focus anche sul giudizio di parificazione, rendiconto generale della regione molise, l'intervento del presidente Toma. C'è la cronaca, come è morto Michele. La famiglia calabrese chiede la verità sul tragico incidente fatale all'operaio 43enne di Boiano. Infine, ancora cronaca, controlli serrati dei carabinieri in manette, un giovane pusher di Boiano. Nella sezione attualità, si parla dell'inchiesta Latte Versato, la Confederazione degli Agricoltori Molise, dice, non serviva report per scoperchiare la mega truffa. Dall'informazione locale, adesso a quella nazionale, iniziamo con il Corriere della Sera. Titolo di apertura, lite sul fondo salva stati. Gualtieri difende l'intesa con l'Europa, bagarre alla Camera. Di Maio, perplessità anche nei 5 Stelle. Intanto, von der Leyen ottiene il sì a Strasburgo. Priorità, ha detto, al clima e a Venezia. A centro pagina, open, inchiesta sulla casa di Renzi. Siamo a Firenze, verifiche sulla carta di credito a Lotti. Vedete questa foto, la storia di una madre, le bimbe con una mutazione genetica, avvelenò le figlie, è stato messo tra virgolette, ma erano solo malate. Marina è stata in carcere tre anni, con l'accusa di aver avvelenato e quasi ucciso le due figlie, invece affette da una sindrome rara. Adesso, uno sguardo a Repubblica, eccola qui. L'Europa sarà verde e l'Italia ora si svegli, parla Franz Timmermans. Intervista al vicepresidente della Commissione europea. Ambiente e big data al centro della nuova rivoluzione industriale, così batteremo i sovranisti. Di spalla, autostrade, la revoca più vicina. Anche il PD, pronto a ritirare la concezione, salva stati. Scoppia la rissa alla Camera. Da Repubblica, siamo ora sulla stampa di Torino, che parla proprio di autostrade, i ponti sono sicuri. A dirlo è la di Tommasi, dice, non cerchiamo scuse, siamo pronti a fare tutte le verifiche che saranno necessarie. La procura intanto di Genova parla di omessi lavori su altri cinque viadotti, pericolo di cedimenti improvvisi. Grande foto di gruppo, Commissione europea, strapotere tedesco nella squadra di Ursula von der Leyen, che vediamo qui in prima fila. Il sole 24 ore, parla di banche, numerosi shock, margini a picco e tagli per 5 miliardi. Rapporto di Oliver Weiman, in cinque anni, i ricavi diminuiranno del 10%. A centro pagina, manovra, caccia da 1 miliardo e 300 milioni, bagarre alla Camera sul salva stati. Ci spostiamo sul fatto quotidiano, che punta molto sulla questione dell'inchiesta Open, che chiude un'epoca, titola il quotidiano. Dunque, Open, il Banco Mattallotti e i soldi alla villa di Renzi. I fondi per la scalata al partito. Ombre e sospetti sulle primarie del 2013 e del 2017. Il PD come la democrazia cristiana. Intanto Renzi nel panico, complotto e arringa contro il PM in Senato sulle orme di Bettino. Uno sguardo a Libero. Miracolo, scrive, i PM danno ragione a Salvini sul mancato sbarco di migranti. La nave ONG straniera, se recupera clandestini, deve portarseli nel proprio stato, non qui. Faceva bene, Matteo, aggiunge, Libero, a chiudere i porti. A centro pagina, Di Maio e Renzi sono ai ferri corti. L'inchiesta sul rottamatore fa ballare il governo. Vediamo anche la prima pagina e l'apertura del messaggero. Rissa sul debito, ipotesi rinvio. Gualtieri alla Camera difende l'intesa sul fondo salva stati. Non modificabile ma non firmata, è stato detto. Lega e Fratelli d'Italia all'attacco. Conte Di Maio per lo slittamento. Allarme intanto sui conti da un allegato nascosto. Grande foto, caos, rifiuti, raggi, commissariata. Cinque giorni per trovare nuovi impianti. C'è un'ordinanza della regione, la sindaca scelga subito o la denunciamo. L'Europa ora riparte a larga maggioranza il titolo di apertura di Avvenire. Via libera la commissione von der Leyen con 461 voti a favore. Sovranisti isolati. Defezione di due deputati del Movimento 5 Stelle. Scontro e bagarre alla Camera sul fondo salva stati. In pratica un riepilogo di quello che è avvenuto. Ieri a centropagina leggiamo fondi alla politica. Lite Renzi con i giudici dopo le perquisizioni ai donatori di Open. Il mattino salvi i lavoratori di Almaviva. Whirlpool parte la trattativa. Lavoro Napoli dunque respira. Confermati 147 contratti del call center. Regione e Invitalia pronte a un piano per la fabbrica di lavatrici. Salva stati va a centropagina. Il Rissa scrive il mattino a Bruxelles. Rispunta la stretta sul debito. La grande evasione. Il titolo di apertura di oggi del manifesto. Vediamo un po' di che si tratta. Profitti stellari e slalom dei giganti del web per aggirare le tasse nei paesi in cui operano. Secondo Mediobanca dal 2014 elusi 74 miliardi grazie a imposte agevolate e fuga nei paradisi fiscali. In Italia il fatturato è di 2,4 miliardi a fronte di 64 milioni di euro versati. In alto, Unione Europea, nasce il governo von der Leyen. Il via libera dà l'Europarlamento alla nuova presidente. 5 stelle divisi, scrive ancora il manifesto, i verdi si astengono. Uno sguardo adesso al tempo. Conte ci tira la fregatura. Vediamo perché, secondo il quotidiano della Capitale, Rissa ieri alla Camera quando si scopre che è immodificabile quel mess a cui il Premier ha dato l'ok. L'Italia dovrà pagare i guai degli altri paesi, ma non potrà avere un euro in caso di crisi finanziaria. Adesso la verità. Focus su Renzi, SPA, il titolo di apertura. L'inchiesta sulla cassaforte del Giglio Magico si allarga mentre si scopre che è il bullo. Si era comprato la famosa villa da 1,4 milioni grazie a un prestito di 700 mila euro fatto da uno dei finanziatori della Open. Lui continua ad attaccare i magistrati, ma salta fuori che il parlamentare con la carta di credito con la fondazione è lotti. A centropagina, Gualtieri Sbugiarda Conte, mess già blindato, abbiamo visto il testo del fondo salva stati, non è emendabile come invece sostiene il Premier. Il secolo, punto it. Eccolo qui. All'Italia nostra e non l'oro. Basta con un governo che farfuglia la compagnia di bandiera. È interesse nazionale. In basso, Gualtieri, il Messe, abbiamo visto, è chiuso. Meloni sono traditori. Von der Leyen, nuova Unione Europea, ma già nessuno le crede, scrive il quotidiano diretto da Storace. La gazzetta dello sport. Lula Park. Bene dunque. L'Inter in presa Praga 3 a 1 con la coppia più bella. L'intesa straordinaria dunque tra Lukaku. Un gol, due annullati, due assist e una traversa. E Lautaro, doppietta, più forte dello Slavia e della VAR. Ottavi sicuri battendo il Barcellona, già primo. San Siro, Conte, saremo in 80.000. Intanto arriva il riscatto del Napoli. Bel pari a Liverpool. Ora basta un punto. Mertens intanto non esulta. Dunque però, a tutti viene detto bravo. A fondo pagina si parla della rinascita di un campione che è Di Bala. Mago di Bala, che tesoro, trascina la Juve. Paolo è trasformato. Merito di Sarri e di Oriana, che vedete che lancia la nuova esultanza. La vedete dunque nella foto. Bene, come sempre con lo sport, in particolare con la gazzetta. Concludiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo alle 14 la seconda edizione della TG. Buona giornata. Grazie per la visione.